Livia Carandende, codirettrice della neotestata giornalistica Quarto News e Cambi Flegrei. Una grandissima emozione ma soprattutto un traguardo perché questo contenitore di informazione è nato già due anni fa e grazie al riscontro notevole sia in termini numerici che interattivi ricevuto da parte dei nostri lettori, del nostro target di lettori, abbiamo deciso di sviluppare e ampliare questa idea e quindi oggi grazie ad un editore che ha voluto sostenerci, quale è Francesco Baiano, siamo leti di poter dire che siamo diventati una testata giornalistica a tutti gli effetti. Tiziana Casciaro è una collega molto conosciuta in tutta l'area Flegrei. Un nuovo contenitore giornalistico se ne sentiva l'esigenza perché le notizie che metterete non sono sempre le stesse, le solite, ma c'è qualche novità. Due anni fa abbiamo posato la prima pietra nel cantiere di Quarto News e Campi Flegrei ma oggi ci proponiamo di trasformare il nostro portale di informazione in un contenitore di positività perché crediamo che sia ingiusto identificare le città di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida soltanto con violenze, episodi di microcriminalità, camorra o sversamenti di rifiuti tossici. Quindi da oggi accoglieremo anche altre iniziative, quelle felici, per veicolare a livello nazionale un'immagine del territorio flegreo che sia sana e pulita.